Ciao ragazzi, pochi minuti per dirvi cosa. Il team di Viva l'Albe va in ferie e tornerà con i video a settembre, quindi niente, ciao! No, vabbè, non così corto il filmato. Anche per dirvi che quest'estate faremo qualche filmatino che non vi posso dire, ma sarà un gran piacevole ritorno. E inoltre vi chiedo ufficialmente di incominciare a mandare i video risposta per sai perché con voi che rispondete a delle domande. Praticamente pubblicate su un file qui sotto, ci metterò il link. Praticamente c'è questo file, lo scaricate, lo aprite come volete. E praticamente dentro ci sarà una caterva di domande. Voi ne prendete una a caso, quella lì che più vi piace, e vi riprendete e rispondete, mi raccomando, in meno di 20 secondi. Quindi niente, prendete quella lì che vi piace di più o quella che vi ispira di più. Ovviamente non potete prendere le vostre domande. O altrimenti se non vi ispira nessuna delle domande in quel documento, potrete andare fuori a chiedere o a giro a chiedere a delle persone domande a caso. E non ci sono problemi di formato, quindi vi potrete riprendere con qualsiasi cosa vi fassi per la testa. Ad esempio una fotocamera, una videocamera, un cellulare, una webcam, accanto a un cespuglio. Fallo dire a un amico. Fare un'animazione. Sì, e anche con quello. Dopo che vi siete ripresi con così tante cose, con una vasta scelta di cose per riprendervi, così ampia, prendete il filmato e o lo caricate su YouTube e mandate il link o avvivalalbestaff.gmail.com o con un messaggio al canale YouTube. O altrimenti mandate direttamente il video, se magari non avete un canale YouTube, mandate direttamente il video via email, sempre avvivalalbestaff.gmail.com o altrimenti magari, se non vi torna, potrete uploadare il file su un harddisk online e mandarci il link. Dove volete, anche su Facebook, insomma dappertutto. Se volete caricate il video su Facebook e mandatecelo. O la videocassetta, o il vinile, a un piccione viaggiatore, fatevelo portare. In un modo o nell'altro. Vi auguriamo tante buone, care, tante, troppe, molte vacanze, che alcuni di voi ci saranno già in vacanza. Ci rivediamo a settembre, il prima possibile, quindi, perché praticamente... E con tante novità, con voi che rispondete alle domande di sé perché, nuove puntate di sé perché, nuove puntate di tante altre cose, che sarà una sorpresa e quando le rivedrete farete... Oh mio Dio, guarda che cosa hanno rifatto! Eh sì, ovviamente, vedete questa voce, appena lo direte. O io, tutte le volte che finisce il filmato, non so veramente mai come salutarvi. Ah, ma vi potrei salutare così! Ciao!